E bella a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Oggi vedremo come impostare una suoneria personalizzata sul proprio dispositivo iOS. Allora partiamo con i requisiti. Innanzitutto ci servirà il dispositivo, io sto usando un iPhone ma voi potete usare qualunque dispositivo iOS tipo un iPad o un iPod Touch. Ci servirà GarageBand, un'applicazione di Apple che potete scaricare gratuitamente dall'App Store se non ce l'avete. E il nostro file audio che deve essere supportato da GarageBand. Assicuratevi di avere il file audio salvato all'interno del vostro iPhone e dopo possiamo passare a GarageBand per iniziare il processo vero e proprio. Su GarageBand vi basterà cliccare la più per creare un nuovo progetto e aprire il microfono. A questo punto cliccate sul pulsante qui in alto e vi si aprirà una schermata del genere. Cliccate sul più in alto a destra, aumentate il numero che vedete qui a schermo. Una volta aumentato potete cliccare qui per importare la vostra canzone, io in questo caso la sto importando da file. Basterà fare un drag and drop e la canzone sarà importata. A questo punto diminuite il numero di lunghezza a seconda di quanto è lunga la vostra canzone. Ora qui potete iniziare tranquillamente a tagliarla per creare la vostra suoneria. Vi ricordo che le suonerie possono avere una durata massima di 30 secondi. Una volta finito potete ritornare ai vostri progetti, tenere premuto sul progetto appena creato e fare condividi. A questo punto cliccate come suoneria e fate esporta. Una volta finito basterà cliccare su ok. Ora andate nelle impostazioni suoni, suoneria e vi dovreste trovare la vostra suoneria con il nome che gli avete dato. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse stato così commentate, iscrivetevi, mettete un mi piace e noi ci rivediamo in un prossimo video.